c'è una sorpresa è arrivato il corriere ha portato un pacco per noi vieni a darmi una mano ok jingle bells jingle bells jingle all the way zin ziri zin piripim jingle bells bombs – la – ah le farteagle do true – za, deine fa pi celedù ok – eh aspetta aspetta che diamo un po' di suspense aspetta sì criiamo un po' di suspense e battì tanto per cominciare sta cosa non si apre perchè annaggia annaggia – dai – ecco oh mo si ha aperto bene – ehno tango per ora Allora parti Che schifo Che c'è sta Sono foglietti Che cos'è fammi vedere Dai dai qui fammi vedere We hope you enjoy Direi proprio che si Aspetta non tira fuori niente Guarda che figata Che figata Ok ce ne stanno due Quindi è il doppio ringraziamento Uno per me e uno per te Che cosa hai tirato fuori Che cos'è Non lo so fammi vedere Tira fuori Lo tiro tutto fuori Ma che è sta roba Ma non lo so Infatti voglio vedere È tipo un 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 Che è sto coso Questo è una base di ricarica di qualcosa Ah è la ricarica wireless dei cellulari C'è sta il cavo C'è sta il cavo sì Io pensavo fosse un po' già bicchieri No Per caricare il telefonino in In wireless Questo muoio io No ce ne stanno due Fermeteo Ecco l'altro Eccolo Eccolo Calmi 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 Vediamo su Vabbè è inutile che lo apri Sarà la stessa cosa Ce ne avevo uno per uno Ce ne avevo uno per Happy birthday Ah no Messo a mutande Ah no Che è che è che è Che è Non capisco Antiviral snood Ah è una È una mascherina Ah si stava di accollare È uno scaldacollo a mascherina Ma di PES C'è scritto PES I FUTBALL 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 Pure di questa ce ne stanno due Eeeh ce n'è Eccola l'altra Questa invece che verde Questa è tutta Questa amapio io Eeeh Questa amapio io Eeeh vabbè sì Fammi vedere Bellissima Fammi vedere Questa è molto molto figa Tutta vario pinta Guarda che spettacolino Tiè Guarda che roba Questa amapio io Questa amapio io Bellissima Bellissima questa Bellissima Questa è proprio bella Ma sa litigheremo sicuramente Questa sa litighiamo Vabbè vai Che cos'è E' una maglietta E ce ne sta un'altra Ma è in tinta con questo Tutto mio Tutto mio Tutto mio Sì sì Tutto suo Tutto mio Fammi vedere Tutto suo Teee Nooo Il FUTBALL Che è 25 anni Quelle Pichis Hours Teee Guarda che spettacolo Sono 25 anni 25 anni Ma tu te rendi conto Year's anniversary 25 25 anni Signò Ma è proprio Bella Bella Per di bella Vai Quindi ce ne stanno due Io non sto guardando nel pacco Perché non voglio spoilerare Ce n'è un'altra Questa la lasciamo così Ma è identica Sei sicuro che è identica? Mi sembra un po' diversa Aprila un po' Dici? Dici ti sembra diversa Mi sembra un po' diversa Aspetta che Tocca trovare Per aprire Mi sembra un po' diversa Non so sicuro però Vediamo subito Vai No è identica Uguale Uguale Bellissimo Almeno questa non se la litigamo Una per uno E non fa male a nessuno Questa non se la litigamo Sta a posto così Va benissimo Ma io adesso voglio vedere una cosa A parte ci stanno Questi che sono portachiavi Beh Questi sono portachiavi Signò Però mi sa C'è stato tipo qualcosa Aspetta devo Apri un po' Apriamo Apriamo perché è qualcosa di particolare Mi sembra Vediamo un po' Allora Questo si ha portachiavi È un portachiavi Ma che è là sopra? Non lo so Non lo so Va vedi Vedi un po' Prova Non riesco Mi sembra Ho capito Che cos'è? Questa è la cosa Per il telefonino Per Per il touch Per il touch Per il touch Che spettacolo Infatti dicevo È per il touch Vieni qua che ti scaccolo Vieni qua che ti scaccolo Spettacolo Vabbè quindi appoggialo lì Che non vedo Che è sta roba? Che è? Questo è lo zainetto Lo zainetto No Lo zainetto di pezza Questo è lo zainetto Ci sta stando un po' Le sordi dentro Guarda un po' Ci sa mai Vodo Vabbè dai Non presentiamo troppo Dalla vita A me è fichissimo Sembra più una pochette che uno zainetto in realtà Una pochette da viaggio È tipo una pochette, bravo, esatto Sì, sì È spettacolare E ovviamente C'è la seconda Chi dobbiamo ringraziare? Allora, dobbiamo ringraziare Vabbè, la Konami Gian Battista Lorenzo Mandiamo io un caloroso abbraccio ragazzi miei Porca miseria Grazie Siamo particolarmente appassionati Io e Fabio di gadgetist Sì c'è gadgetistica Gadgetistica Oggetistica di PES C'abbiamo anche le cose dell'anno scorso Anzi, mo le vado un attimo a recuperare Perché voglio far vedere quello che ci hanno mandato l'anno scorso Mo arrivo solo un secondo Ok, ho aperto l'armadio e ho recuperato le cose dello scorso anno Le vuoi far vedere? Ovviamente Per chi non l'avesse visto il video dell'anno scorso? Cappellaini Assolutamente Guardate che aspetta Ragazzi miei Vi dica la verità Ce n'avemo tre Ma io sono talmente esaurito Che non voglio utilizzarli per rovinarli Questa è roba da collezione Questa è roba da collezione Dice ce n'hai tre Uno è De Fabio Uno è tuo Uno lo potete usare No Assolutamente no Orologio Ovviamente non l'ho utilizzato Perché questo è rigorosamente da collezione Preso Messo lì E non va assolutamente utilizzato E ok Sottobicchieri È per questo che io vi ho detto Che quello sembrava un sottobicchiere Esatto Questi sono dell'anno No, sono del 2019 Scusatemi Ma so di girali Perché sono molto di qualità Sono tipo di cartone duro Di legno Non so di che cosa Sono E questi Vi dica la verità Ce ne hanno mandati una decina Ne ho lasciati tre E gli altri li sto utilizzando Se te lo diri in fronte Più o meno te fa male Eh sì lo sapevamo Poi Questo oddio Eh io me lo ricordo che cos'è E in tanti se lo ricorderanno Questo Ma come si apre innanzitutto uno Non te lo ricordi veramente Magari Ah sì 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 Il bigliardino quello piccolo Sì 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 Certo che me lo ricordo In tanti l'anno scorso ci dissero Ma fateci una partita Ma perché non ci fate una partita Ma è vero È vero Che figata Veramente Cioè una figata De quelle De quelle pazzesche Bellissimo Bellissimo Da esposizione questa Anche qui C'è una cosa che vi ricorderete Perché me ne hanno mandate Tre o quattro di queste Sì E una Maglietta Sta maglietta l'avete sicuramente vista Perché l'ho indossata Questa È una reliquia Non si tocca Assolutamente The power of football Ma ce ne sono due Siccome a me Mi metto il bianco E diventa giallo O marrone Sì Queste non le utilizzeremo mai Sono Solo ed esclusivamente Da collezione Sempre Vai PES Questa edizione Questa ce l'hanno mandata Nel 2018 Mai utilizzata ragazzi miei Guardate quanto è bella Spettacolare E l'ultima E l'ultima Andiamo subito Subito a riaprirla Che scotch ci hai messo? Eh per proteggerla meglio Eccola qua Regà Questa È di PES 2017 Dobbiamo fare la collezione Di tutte le magliette Ce ne abbiamo una per ogni anno Una per ogni anno Di conseguenza No ci abbiamo pure le magliette Quelle calcistiche Però quelle se impuzzoliscono Non ci si poggio Quando si potrà tornare a giocare a calcetto Non si possono assolutamente utilizzare Perché se si impuzzolisi Mi raccomando Non utilizzare la tua Perché se no fa schifo Poi puzza Poi si confonde con la mia Te confondi con la tua Sono le tue che puzzano da maglia No anche le tue puzzano Anche le tue puzzano Detto questo Vi ringraziamo per aver visto questo video Nuovamente ringraziamo la Konami Per averci regalato tutta questa oggettistica Grazie ancora a Gian Battista D'Oresso Sperando che l'anno prossimo possano inviarci Non lo so Una Mercedes Una Subaru Una Lamborghini Targata PES Marchiata PES Sarebbe perfetto No non serve Uno di questo Piene dei pezzi da 500 Ecco Bello Sarebbe perfetto ovviamente Siamo ironici Stiamo scherzando Ragazzi miei mi piace Commentate condividete Iscrivetevi a entrambi i nostri canali Possibilmente non del monopoli però Insomma No assolutamente si Profili social Instagram compreso Tutti in descrizione Contenuti consigliati Mi raccomando una marea di mi piace Se volete ben presto un nuovo super contenuto Pazzesco Su PES 2021 Ciao ragazzi Ciao regà